Era BTP, il ritorno degli investitori, è il foglio 1, eccolo là, si legge a malapena, ci vorrebbe la lente di ingrandimento, ma comunque il titolo è quello, BTP Italia, il ritorno degli investitori, a volte ritornano. Quarta emissione, dopo i successi molto rilevanti delle emissioni precedenti, il titolo è molto interessante perché comunque è un quadriennale, ti consente un rendimento facciale garantito, in questo caso del 2,25, in passato era stato anche più alto, e una copertura puntuale del tasso inflattivo, quindi alla fin fine per un investitore che lo detenga per i 4 anni della sua durata, avere un rendimento superiore al 4% netto è abbastanza verosimile. Anche se appunto in questo momento l'inflazione in Italia è calata, allora sotto un certo punto di vista potrebbe essere letta come un'inchiave positiva, sotto un altro purtroppo l'inflazione calante in questa fase significa che i consumi sono stagnanti, la gente compra meno e quindi c'è meno richiesta di beni. Purtroppo in questo caso il segnale dell'inflazione calante, che normalmente è una cosa positiva e una cosa decisamente negativa, questo si riverbero ovviamente nel rendimento di questo titolo di Stato italiano che è appunto indicizzato sull'inflazione e quindi sostanzialmente assomma il rendimento facciale del 2,25 a quelli che sono i tassi inflattivi puntuali mese dopo mese.